ciao bimbi guardate questo orsetto siete comodi come lui nel vostro letto il suo musetto però sembra impaurito chissà chissà che rumore ha sentito siamo sempre noi francesca e alice vediamo insieme come farlo felice racconteremo la sua storia in sezione ragazzi ve la ricordate ci piace da pazzi se state ascoltando come parliamo e se vi piacciono le rime noi cominciamo voi siete pronti per questa nuova lettura dai coraggio all'avventura gli orsi non hanno paura di elisabeth dale con illustrazioni di paola metcalf risplende la luna nel fitto boschetto e gli orsi son già il calduccio nel letto ci sono mamma e babbo orso ed ecco susi e nino anche orsetto sogna ma dopo un pochino allunga una zampa si gira assopito e all'improvviso si sveglia per un forte ruggito aiuto grida orsetto c'è un mostro qua giù e qui sta arrivando l'hai sentito anche tu ma no fa la mamma carezzando orsetto non c'è nessun mostro su dai torna a letto ma orsetto si impunta son troppo impaurito se non ci son mostri chi ha fatto il ruggito sentite fa il babbo accendendo un lumicino perché non andiamo a cercarlo qui vicino vedrete figlioli la notte è sicura e tanto gli orsi non hanno paura ed eccoli in cinque tra gli alberi alti e fitti a un tratto si sente un rumore e la mamma esclama sshh zitti allora tutti quanti si fermano di scatto e dal buio salta fuori ma che mostro è un cerbiato il babbo se la ride che terribile creatura ma tanto gli orsi non hanno paura siamo molto coraggiosi fanno i piccoli in subuglio e la mamma che l'ha vista si è impigliata in un cespuglio ed eccoli in quattro nel bosco più nero Nino vede un guizzo e dice un mostro per davvero sono tutti quanti fermi sopra un tronco scivoloso e dall'acqua salta fuori un rospo rugoso il babbo se la ride che enorme creatura ma tanto gli orsi non hanno paura andiamo poi dice di mostruoso non c'è niente e Nino chi l'ha visto è finito nel torrente ed eccoli in tre sul sentiero infangato su si lancia un urlo aiuto chi mi ha sfiorato un mostro fa orsetto stavolta c'è davvero ma no è soltanto un innocuo corvo nero il babbo se la ride che veroce creatura ma tanto gli orsi non hanno paura attraversano la melma con passi da orango i susi dov'è? è rimasta bloccata nella fango ed eccoli in due così stanchi e sfiniti che non si accorgono degli orsi spariti la luce traballa diventa più fioca torniamo? chiede orsetto ho la pelle d'oca va bene dice il babbo ti metto a letto il mostro non c'è te l'avevo detto un orso non trema specialmente se è bruno giusto ragazzi? ma lì non risponde nessuno ma dove sono finiti? si domanda babbo orso pensavo ci seguissero lungo tutto il percorso forse hanno deciso di tornarsene a dormire e se invece un mostro li avesse fatti sparire? ma ecco a un certo punto un'ombra misteriosa ah! grida il babbo è orrenda è spaventosa orsetto nasconditi qui dietro di me non c'è solo un mostro ce ne sono tre guarda che occhi feroci che truce andatura di questo sì che gli orsi hanno paura poi babbo orso dice dobbiamo scappare presto di là allora il mostro più grosso ruggisce è là il povero babbo tremante non ce la fa più ma poi orsetto grida mamma sei tu ridacchia la mamma sciocchini che siete siamo Nino, Susi e io non ci riconoscete? siete voi? dice il babbo sospirando di sollievo e pensare che ai mostri a momenti ci credevo ed eccoli tutti e cinque ritornano ai loro letti stavolta però dice il babbo teniamoci stretti risplende la luna nel fitto boschetto e gli orsi son già il calduccio nel letto ma di colpo si svegliano con il batticuore hanno di nuovo sentito quel cupo rumore orsetto è sicuro è un mostro lo so eh no fanno gli altri ascoltaci un po' vuoi proprio sapere chi ti ha spaventato sei stato proprio tu perché vedi hai russato grazie a tutti Grazie a tutti.